È tempo. Una cosa che fai, una cosa che chiunque si consideri un qualche tipo di sadaka o ricercatore, una cosa che devi fare a te stesso è, sei assolutamente onesto con te stesso. Se sei onesto anche con ogni persona intorno a te, otterrai altri tipi di benefici con le persone. Ma non andrò così in lontano adesso. Con te stesso sei onesto al 100%, altrimenti ogni tipo di inganni continuano ad accadere. Essere onesto con te stesso non è una cosa facile, perché ci sono vite intere di abitudine a semplicemente raccontarti balle. E ovviamente avete attraversato molta formazione religiosa, molti di voi. Quindi hai un modo molto sofisticato di raccontarti balle. E l'hai fatto avvallare da certe autorità. Ci siete? È avvallato che queste balle sono buone. Un ospite venne a casa di Shankaran Pillai. Ed essendo un uomo del sud dell'India, giù a Sud Sai, Pillai viene da più a sud ancora. Portava con sé un ombrello, il che è cosa comune, nel Kerala e nel Tamil Nadu meridionale. Portare un ombrello è una cosa molto comune, perché le piogge possono essere molto intense. Poi uscirono, lui portò fuori l'ospite, poi iniziò a piovere. Ma Shankaran Pillai non aprì l'ombrello. L'ospite disse, perché non aprì l'ombrello? Shankaran Pillai disse, mi spiace, l'ombrello è pieno di buchi. Allora l'ospite chiese, perché l'hai portato? Beh, non avrei mai pensato che piovesse oggi. Tanta gente così. Pensano che qualcun altro debba cogliere le loro bugie. Questo richiederà molto tempo, perché che qualcun altro colga le tue bugie richiederà vita intere. Devi coglierle tu, non dovresti lasciare passare i tuoi polli. Per diventare al 100% onesto con te stesso, ci vorrà una certa quantità di impegno. Ma se fai questa cosa, Asatoma Asat Gamaya, questo pezzo di vita funzionerà di sicuro al 100%. Puoi capire alcune cose è molto semplice. Per quello io sono qui. Se solo sistemi questa cosa, che sei sincero al 100%, nessun tipo di inganno. Quando c'è un buco nell'ombrello, lo sai che c'è un buco nell'ombrello. Non dimenticherai mai che c'è un buco nell'ombrello. Ok? Se sei così, il resto del lavoro diventa molto semplice e facile. Il resto del lavoro diventa molto semplice e facile. Grazie. Grazie.